Serturini, uno contro uno, scambio con Lazaro, ancora Serturini, parte il traversone, prova a coordinarsi per un super gol, Maria Bandusic cosa ha fatto? La numero nove, mamma mia! C'è Clelland solissima che deve aspettare i rinforzi, arriva Zanoli, Clelland, sotto l'incrocio, uno a uno per la Fiorentina, che gol ha creato e realizzato Lana Clelland. Ancora Napoli, Goldoni, ci prova! Gol asso! Eleonora Goldoni, tre a uno al trentottesimo, torna a più due il Napoli con un super gol di Goldoni.